Il console generale di Francia a Napoli, Christian Timonier, ha fatto visita in forma ufficiale al municipio di Cosenza ricevuto dal vice sindaco Catia Gentile. Timonier era in città per salutare Giovanni Conti che lascia dopo 20 anni la carica di console onorario di Francia. L'occasione è stata colta al volo per avviare una prima serie di contatti utili a realizzare eventi culturali e per studiare un programma di sviluppo turistico. Abbiamo progetti di fare alcune manifestazioni culturali e pensiamo al sviluppo del turismo perché è un capitale per la Calabria e sono molte possibilità. Abbiamo le nostre idee e io ho visto che il municipio è molto dinamico e io penso che sono possibilità di fare alcune cose insieme. Questa visita è stata graditissima da parte nostra, sia dal punto di vista della formalità arriva il console generale di Francia a Napoli e allora già questo ci lusinga molto. Ma soprattutto abbiamo avuto modo di parlare, di scambiare già delle idee per cui stiamo cercando di, a parte di intessere rapporti che potranno produrre per il futuro qui a Cosenza, sicuramente cose importanti sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista culturale. Quindi è importante, noi pensiamo, speriamo che il console possa ritornare qui già a breve quando si insederà il nuovo console, onorario qui a Cosenza. Quindi diceva forse fra un paio, due o tre mesi all'incirca per approfondire quindi questi discorsi e per cercare di, insomma, mettere a frutto quello di cui si è parlato stamattina. Momenti di emozione, parlo ormai ex console onorario di Francia, Giovanni Conti. Un ventennio porta a far sì che si acquisisca, diciamo, un contesto importante, ecco, che porta a far sì di giudicare le cose con più ampiezza e con maggiore, diciamo, precisione nel contesto. E' stato per me una grande esperienza, diciamo via.